Siamo in Lottica Pinchiori e presento il lobster gratinato con pepe nero, pepe nero, pepe nero e yogurt. Ho tagliato le panze di lobster e lo mixo con yogurt. Faccio una canella, come questo, e lo metto sulla platea. Ho metto due canelli di lobster, come questo. Ora ho scato prima il pepe nero, pepe nero, un tipo di barley, molto tipico di Toscani. Ho tagliato sulla platea, come questo. Abbiamo la salsa di pepe nero. Abbiamo la salsa di yogurt. Ora siamo in Siso, quindi sono molto delicati e dolenti. Come questo. Perfetto. Ho aggiunto un po' di sauce di yogurt. E ora ho aggiunto un po' di salsa di yogurt. Gratinato con pepe nero. Le pepe nero sono molto speciali in Toscani. Ho finito la platea con alcune pepe nero. Le pepe nero sono. Le pepe nero sono più belle. Le pepe nero sono molto bezzate questa siste. E poi finisco il prato con oliva extra virgine di Cosperi e il prato è finito, abbiamo la nostra, qui abbiamo la lobster con black olives, con peer barley, yogurt e con la peper sauce. Buon appetito!